Ma nulla cambia rispetto alle scelte che i lavoratori e le lavoratrici hanno già fatto. Comprendiamo le esigenze di AIV ma se ne devono fare una ragione. Assolutamente, continua nell'ordine come avevamo detto fin dall'inizio. Il giorno di ferragosto, come avete già visto anche voi, c'era una forte partecipazione. Impensieriti e in allerta ma determinati a continuare il presidio per difendere i posti di lavoro e la realtà produttiva del territorio. I lavoratori Varsila sono ormai da più di un mese a controllare che nessun macchinario esca dallo stabilimento di Bagnoli e ieri hanno saputo della visita in fabbrica di una delegazione della DAEV che ha anche fatto tappa in porto dove si trovano alcuni motori destinati alla Corea. Ci hanno raccontato che sono venuti questi coreani nel silenzio assoluto, nessuno ci ha avvertito. hanno fatto un giro in fabbrica, sono andati a mangiare in mensa, hanno visto si metal e boh, questo è tutto. Qui c'è in bala la vita di circa un migliaio di persone oggi e della vita di tutto lo stabilimento in futuro. è una lotta che ha sostegno di tutta la città, ci sono anche i lavoratori del porto e siccome siamo in democrazia ai lavoratori non si può obbligare di fare quello che non vogliono fare. Se qualcuno deve parlare DAEV deve parlare con la Varsila perché rimuova questa procedura di licenziamenti e ripensi sulle strategie industriali nel nostro paese. Visto che c'è tutta Trieste con noi, tutti i lavoratori, le istituzioni, gli industriali, il presidente del porto, quindi sono tutti con noi, non abbiamo necessità di protestare, abbiamo necessità di testimoniare e lo faremo ai primi di settembre con una grande manifestazione che coinvolga non soltanto il comparto produttivo ma coinvolga l'intera città. A me dispiace che il sindaco abbia interpretato la richiesta di quell'ordinanza rispetto a impedire il passaggio dei tir. Quella è un'ordinanza a difesa della sicurezza dei manifestanti, peraltro nel comune dei campi di Bisenzio questa ordinanza è stata assunta da parte del sindaco che non ha avuto nessun tipo di ritorsione.